Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video Oggi andiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore perchè aria molto calda sta arrivando verso l'Italia Ma prima di continuare vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo Iscrivendovi e attivando la campanella arriveranno direttamente le notifiche sui vostri dispositivi così da rimanere sempre aggiornati in ogni situazione senza dover andare a cercare ulteriori informazioni Detto questo vi invito anche ad andare nel link in descrizione o nel commento fissato tra la sezione commenti dove c'è il nostro secondo canale dove pubblichiamo tutti gli eventi atmosferici estremi in Italia Bene, andiamo subito a vedere cosa accadrà nelle prossime ore L'aria molto calda di origine nord africana si sposterà verso la Francia e la Germania portando le temperature sopra media stagionale fino anche a 12 gradi L'Italia, soprattutto sul centro e nord ci saranno delle temperature massime comprese tra i 35 e i 37 gradi invece sul centro sud in maniera anomala le temperature saranno molto più fresche e anche gradevoli Caldo comunque che si farà sui suoi massimi tra il 20 e il 22 di agosto e poi attenzione perché verso il 23 e il 24 l'aria calda si sposterà verso i Balcani liberando nuovamente l'Italia dalla morsa africana poi le temperature verso il 25 dovrebbero diminuire ma questo ne parleremo in un prossimo video per quanto riguarda le massime sul centro e nord Italia come ho già detto a partire da domenica lunedì, martedì e mercoledì avremo delle massime sul nord con valori massimi come ho già detto tra i 35 e i 37 gradi sul centro Italia tra il 33 e i 36 gradi invece sul centro e il sud comprese tra i 29 e i 33 gradi il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta la nostra penisola levato è possibile qualche acquazione o rovescio oppure anche locali temporali sulle aree interne quindi sulle aree appenniniche e su quelle alpine e prealpine vi ringraziamo della visione invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale lasciare un mi piace attivare la campanella per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo grazie a tutti